Eccoci all'entrata in campo per la gara di campionato categoria Juniores, campionato regionale, Val di Sancro, Virtus Castelfrentano. La Virtus Castelfrentano gioca con la divisa rosa-nero, mentre la Val di Sancro con la divisa bianco-azzurra. Il direttore di gara è il signor Caffiero della sezione Aia di Lanciano. C'è il sotteggio. Una foto non ce l'avete o ve l'ho fatta la prossima? Eccoci è il saluto della panchina. C'è il sotteggio. C'è il sotteggio.